Questa è la seconda interrogazione per la verità perché da un mese a questa parte la dengue a Fano è letteralmente dilagata, contagiando anche altre città e altre regioni, i turisti della nostra città e campeggiando in modo importante nel dibattito dei tre giorni del G7 Salute in Ancona, portando proprio anche l'OMS a esprimersi su questa che viene definita un'epidemia del centro Italia. Il sindaco ha sottovalutato assolutamente, questo mi sembra evidente, in questi mesi facendo passare anche 20 giorni tra un'ordinanza e l'altra di disinfestazione e ha proposto un kit molto criticato dai virologi di tutta Italia perché è privo di principi attivi venduto appunto nelle farmacie pubbliche comunali di Aset. Allora, siccome il contagio e la possibilità di un secondo contagio è molto preoccupante e può avere degli effetti che insomma devono porre l'attenzione su questo, avendo la dengue quattro serotipi, chiediamo al sindaco di farsi promotore di una campagna di screening per conoscere quante persone si siano effettivamente contagiate e chiedere al sistema sanitario qual è la migliore profilassi da adottare e se ci sia la necessità o meno di un vaccino per le persone, perlomeno per le persone che sono già state contagiate la prima volta. Ecco, chiediamo un impegno più importante e di prendere più seriamente quello che tutti, a parte il nostro sindaco, a livello nazionale e internazionale condividono come un fenomeno importante di epidemia.